Musica Donami Gesù di aprirmi al tuo amore Così che anche io possa aprirti il mio amore Parole dal cuore, pensieri, canti ed emozioni con Don Lucio Giacintucci e Nando Marinucci che vi parla A Don Lucio Giacintucci come di consueto la preghiera d'apertura per questo nuovo incontro Don Lucio siamo giunti al cinquantacinquesimo incontro Sì, saluto tutti voi cari radioascoltatori e iniziamo come di consueto come diceva Nando Come di consueto iniziamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato Pare nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà Come in cielo e così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Grazie Don Lucio La parola dal cuore che abbiamo scelto per oggi è sicurezza In una vita così tribolata come quella dei nostri giorni Trovare la sicurezza desiderata è davvero impossibile La ricerca del benessere, della salute, della prosperità Sembra concentrare tutte le nostre attenzioni sul danaro Sulle ricchezze Su un potere che secondo la concretezza di questo mondo Può riuscire a garantire questa agognata sicurezza Ma oggi abbiamo qui con noi un ospite d'eccezione Che può raccontarci come questa sicurezza invece Riesce ad esprimersi attraverso la presenza misteriosa Dell'angelo custode Abbiamo con noi Don Marcello Stanzione Parroco di Santa Maria la Nova Nel comune di Campania in provincia di Salerno Sì, giusto? Sì esatto Ringrazionando per avermi invitato qui A Radio Speranza La Radio della Diocesi di Pescara A parlare di questo argomento meraviglioso Che ci dà tanta serenità e sicurezza Il ruolo dell'angelo custode nella nostra vita Ringrazio il carissimo Don Lucio Perché io mi trovo nella sua parrocchia Di Cepagatti Perché Don Lucio Ha voluto che questa sera, sabato Alle ore 21 Io facessi una conferenza sui mistici E l'angelo custode E domani sera invece domenica Sempre alle ore 21 Siamo nel mese di novembre Il mese consacrato alla preghiera Per i nostri cari defunti Don Lucio ha voluto che io trattassi appunto Dei mistici e del loro rapporto Con le anime purganti Grandi appuntamenti con Don Marcello Comunque l'8 maggio del 2002 Don Marcello ha rifondato L'associazione cattolica Chiamata Milizia di San Michele Arcangelo Entriamo subito nel dunque Per la retta diffusione Della devozione cattolica Ai Santi Angeli Nella tua parrocchia Caro Don Marcello Hai creato un centro di angelologia Dotato di biblioteca E centro documentazione La mostra permanente Sulla devozione agli angeli E' il centro di spiritualità Oasi di San Michele Per campi scuola Ritiri e convegni Il tutto per la ricerca Di una sicurezza Che esiste ma non vediamo E allora Don Marcello Chi sono i Santi Angeli Ovvero chi è Come riconoscere Ed ascoltare Il nostro angelo custode Allora innanzitutto Nelle librerie Ci sono decine e decine Di libri sugli angeli Il problema è che Quasi sempre Sono libri demenziali Libri che creano confusione Perché sono scritti Da autori new age Cabalisti esoterici Eccetera eccetera Ecco la mia attività È un'attività di un prete cattolico Che da una parte Cerca a livello apologetico Di presentare gli angi Gli angeli secondo la Bibbia E secondo il catechismo E la fede Della teologia cristiana cattolica E dall'altra parte C'è una seconda mia missione Quello di fare apostolato Per far amare gli angeli Che sono i nostri migliori amici Ecco noi Se apriamo il catechismo Della chiesa cattolica Del 1993 Gli angeli sono definiti Esseri spirituali Incorpori Dotati di Intelligenza e volontà Quindi sono esseri personali Sono in contatto con Dio E sono in contatto con noi esseri umani Quindi gli angeli fanno da Mediatori Chi sono gli angeli? Ecco gli angeli sono Quegli esseri Gli angeli buoni Che amano, lodano, adorano il Dio E nello stesso tempo Senza perdere il contatto con Dio Dice Gesù nel Vangelo di San Matteo 18.10 Che l'angelo vede sempre il volto del padre Ma nello stesso tempo Ecco proteggono, sostengono, illuminano I loro protetti E quella preghiera che da bambini Ci hanno fatto imparare Angelo di Dio Che sei il mio custodi Illumina, custodisci, reggi, governami Che ti fai affidato dalla pietà celeste È una preghiera che non solo i bambini Soprattutto noi che siamo adulti E forse siamo anche un po' vecchietti Abbiamo avuto tante avventure Tante disillusioni Tanti combattimenti Dovremmo sempre recitare Con gratitudine Al nostro santo angelo custode Ecco L'angelo È quella voce della coscienza Che ci dice Nando Fai così Nando Attenzione a quella persona Nando Non ti fidare Nando Prega di più Ecco Nando Vai a messa Nando Organizzati bene Quello che devi fare in famiglia Ecco L'angelo veramente È la voce di Dio Che attraverso la coscienza Ci illumina Perché vuole portarci Alla santità Alla santificazione Molto bene Don Marcello Possiamo raccogliere Tante 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 cose Angeli mediatori Proteggono Illuminano Voce della coscienza Voce di Dio Che ci portano dunque Alla santità E allora Meditando Poi con Don Lucio Manderei subito Il primo brano Dal titolo Angel del Ciel Dall'album Mis primeras canziones Del 2021 L'autore Felipe Gómez Angel del Cielo Escúchame Hoy Quiero hablar contigo Quiero contarte Lo que fui Antes de que fuéramos amigos Sentí tus alas perfectas Tocando mi interior Tus lágrimas Abiertas Queriendo Que yo Fuera Mejor Hoy Te pido Ángel Ángel Luz Llévale Mi Vida A Jesús Sentí Tus alas Perfectas Tocando mi interior Caro Don Lucio Felipe Gómez Grandissimo Autore Autore di brani Eccezionali Direi Dice Angelo del Cielo Ascoltami Ecco sì Penso che Sentendo parlare Anche Marcello Che parlava Dell'Angelo Custode Soprattutto della preghiera Che da piccolini Ci hanno insegnato Da rivolgere Da rivolgere al nostro Angelo Custode Poi Mi venne da pensare Che per molti Soprattutto per persone adulte Questa preghiera È rimasta solamente Un'invocazione Che si fa da bambini Perché poi non ci si crede più Poi perché Di fronte ai problemi Di cui si parlava prima La prima domanda di Nando Il benessere La salute Il denaro Tutte le ricchezze Che comunque noi cerchiamo Per 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 ritrovare Quella sicurezza Che proprio la società Un po' ci sta levando E così fa di tutto Tranne che rivolgersi A Rivolgerci All'Angelo No Mi venne da pensare questo No Di fronte alle insicurezze Le incertezze Costruiamo Ci rivolgiamo agli idoli E gli idoli E su questo Ci riusciamo molto bene Perché pensiamo Che veramente Questi possano Darci quella sicurezza Quella garanzia di sicurezza Che non troviamo In altro luogo E quindi Ecco Riscoprire invece La presenza Dell'Angelo Custode Come ce l'hanno Sempre presentata E l'hanno vissuta Gli angeli I santi È una cosa importante È fondamentale Dovremmo riscoprirlo tutti Soprattutto noi Adulti Bene Don Lucio Hai parlato di idoli Di garanzie Moderne Tra le tue attività Caro Don Marcello È contemplato Anche l'impegno In una dura lotta Alle sette All'occultismo E alla magia Una lotta contro Sedicenti Maghi dunque Cartomanti Santoni E similare E la domanda E la domanda è questa Ovviamente Una lotta Contro il male Che dilaga Al fine di salvaguardare Il portafoglio Ma soprattutto L'anima Dei malcapitati Cosa succede davvero A quei malcapitati Come mai Cade quella Connessione E quella Sicurezza Nel proprio Angelo Custode Ecco Innanzitutto Il mio apostolato Si svolge In una piccola Parrocchia Dell'Italia Meridionale In provincia Di Salerno Io ho sempre cercato Di ispirarmi In qualche modo Agli angeli Allora Gli angeli Pregano Adorano E io Nella mia parrocchia Ho messo La cappella Dell'adorazione Eucaristica Perpetua Proprio perché Il cristiano Deve imitare L'angelo Che prega E' chiaro che poi A causa del covid Abbiamo dovuto Chiudere La cappella Purtroppo Dopo tanti anni Abbiamo dovuto Interrompere Però al più presto Ripigliamo L'adorazione Eucaristica Perpetua Seconda cosa Nella Bibbia Gli angeli Sono l'esercito Di Dio Dio è chiamato Yahweh Sabbao Il signore degli eserciti E gli angeli Combattono il male Combattono Gli angeli cattivi I diavoli Allora Ho cercato Nel mio ministero Sacerdotale Di combattere L'occultismo Combattere La magia Eccetera Eccetera Innanzitutto Voglio sottolineare Che io Non sono esorcista Di nomina Episcopale Però Come tutti i preti Anche se non tutti i preti Lo fanno Questione di sensibilità Questione di Tempo Ripeto Io ho una piccola parrocchia Di 800.000 abitanti Ho tanto tempo Ho sempre fatto Le benedizioni Le preghiere di liberazione Ripeto Cose che tutti i preti Possono fare Non c'è bisogno Di un mandato particolare L'esorcista Deve fare gli esorcismi Ma I preti Normalmente Possono fare queste preghiere Queste benedizioni Allora La mia attività Innanzitutto È di discernimento Vengono tante persone Che dicono Di aver ricevuto Una maledizione Una fattura Un sortileggio Una stregoneria Ripeto Una fattura E io Invocando lo Spirito Santo Invocando il mio angelo E l'angelo di questa persona Cerco di fare un discernimento Parliamo chiaramente Sono fenomeni Che esistono Sono reali Ma Bisogna dire subito Che sono Non così frequenti Per esempio Ti posso dire Certe volte Io mi diverto tanto Perché Vengono persone Di una certa età 75-80 anni E mi dicono Don Marcello Io stavo così bene E adesso Non riesco a camminare bene C'ho un dolore nel fianco C'ho un mal di testa Non riesco più a digerire 75-80 anni Mi hanno fatto il malocchio Fatemi una benedizione Liberatemi dal malocchio Io dico Figlio mio E non ho battuto Perché Io tengo 60 anni In genere Sono persone Di 15-20 anni Più grandi di me Dico Figlio mio Stanno sentire A una certa età È chiaro Che tu Non cammini più bene C'hai l'artrosi C'hai tanti malanni E dico Guarda a me Io mi tengo 60 anni Sono due anni Che porto gli occhiali Allora scusa Che devo dire Qualcuno mi ha fatto il malocchio E più o meno A una certa età Chi prima non portava gli occhiali Intorno ai 60 anni Incomincia a portare gli occhiali Quindi Devo tranquillizzare Facendo il discernimento Perché tanti sono fissati Che hanno la fattura Ma in realtà È nella capa loro Poi Molti Vanno dal mago E il mago Attraverso le carte Attraverso Per forza Ti dice Che tu c'è la fattura Perché poi Dai 50-100 euro Per la consultazione Dei tarocchi Poi dopo Lui ti fa La medaglietta Il talismane Eccetera Eccetera Quindi come dire C'è il pollo Che deve spennare E io ho visto Tantissime persone Portare tanti soldi Dai maghi Soltutto delle donne Che portano migliaia E migliaia di euro Il marito non sa niente Nascondono queste cose Ecco Poi tante volte Quando la donna Non ci va più Il cliente non ci va più Perché non ha più soldi Tante volte il mago Che cosa fa Gli fa recapitare a casa Magari una lettera Con una testa di gallina Mozzato Oppure altre cose Perché lo vuole far mettere paura Perché non vuole perdere Il cliente Quindi La mia opera È di tranquillizzare Queste persone E Poi È chiaro Che in alcuni casi Veramente C'è un'azione Preternaturale Diabolica E cerco di capire Se una possessione Io non la posso trattare La invio Agli esorcisti Giocesani Se invece È una vessazione Un'ossessione Un'infestazione E agisco io Ecco Tante volte mi è capitato Di andare in casa Dove c'erano cattivi odori Inspiegabili Rumori Passi E lì ho fatto preghiere Di liberazione Benedizioni E questi fenomeni Sono scompassi Ecco Poi È un campo Molto Molto vasto Per esempio Ripeto Alcuni sono fissati Che hanno avuto La fattura E io dico Senti Portami il cuscino Apriamo il cuscino Ecco Io Ho fatto portare Centinaia di cuscini Un paio di volte Abbiamo visto Veramente Nei cuscini Delle situazioni Inspiegabili Ecco Legami Legacci Però nel 99% Le persone portano Il cuscino Che dicono Di aver avuto Una fattura Apriamo il cuscino E non c'è niente Dico Figlio mio Stai tranquillo E sereno Perché se ci fosse Un maleficio Si trova Perché poi Ci insegna Che esistono Come esistono I sacramenti Attraverso cui Il Signore Ci dà la salvezza Ma non solamente La salvezza Dell'anima Anche la salute Purtroppo Ci sono dei veri Maghi neri E sono pochi Grazie a Dio Perché la maggioranza Sono dei furbacchioni Dei ciarlatani Certamente ispirati Dal demonio Perché ingannano La gente Approfittando Delle loro Debolezze Delle loro Sofferenze Ecco ripeto È un apostolato Importante Che bisogna fare Perché se noi Trascuriamo Questo apostolato Ecco le persone Si sentono Abbandonate Dai sacerdoti Abbandonate Dalla chiesa Non considerate Ecco Dunque Tante fissazioni Ma comunque Abbiamo bisogno Di un'azione Pastorale Contro il male È una preghiera La preghiera Deve essere Praticamente All'ordine Delle cose Naturali Si poi le persone Cercano il santone Il prete santone Il prete carismatico Che ti mette la mano in testa E fa tutto lui Che le persone Non vogliono pregare No Allora io dico Senti Questa situazione Di sofferenza Che sia una tua fissazione Devi scacciare Lo spirito di paura Che sia veramente Certe volte è successo Non così frequentemente Ma è successo Sono 32 anni Che sono prete Veramente ho visto persone Con malefici Con stregonerie Ecco Allora lì Preghiamo insieme Ma devi tanto pregare Con il rosario Andando a messa Tutti i giorni Leggendo la parola di Dio Che il Signore Ti libri Da questo spirito Di maledizione Da questo spirito Di sortileggio Da questo spirito Di Asmodeo Eccetera Eccetera Quindi tanta preghiera Dunque abbiamo anche L'esercito di Dio Che ci conforta E guidato dalla regina Degli angeli Una volta ho fatto Un'esperienza molto forte Una ragazza Con degli spiriti Che si trovava lì Veniva da Firenze Con il papà e la mamma Durante le preghiere Di liberazione Perché ripeto Faccio solo preghiere Di liberazione Che tutti i preti Possono fare Ecco E sta ragazza Incominciò ad agitarsi A dire parolacce Peggio di uno scaricante Di porto I genitori erano a disagio Io disse Non vi preoccupate Capisco Che non è lei Che dice queste tremende Parolacce e volgarità E si agitava talmente Tanto Che i due genitori Non riuscivano A trattenerla Allora io Ho visto la difficoltà Dei genitori Dissi Ai genitori Lasciatela stare Non la toccate E disse Io dissi Chieda ai santi angeli Di Dio Di intervenire E di bloccare Questa ragazza Invisibilmente Perché io gli angeli Non li vedo Questa ragazza Si bloccò con le mani Con le braccia E continuiamo Con i genitori A fare la preghiera Veramente Gli angeli La bloccarono Questa esperienza Che ho fatto Mi è stata raccontata Da diversi esorcisti I quali mi hanno detto Appunto Certe volte 7, 8, 9 persone Non riescono a tenere Gli energumeni I veri energumeni E l'esorcista dice Adesso invochiamo I santi angeli I quali intervengono E bloccano Senza il più bisogno Di un aiuto umano Piacevole ascoltare Le parole di Don Marcello Io mando su Chiedo alla regia Di mandare il secondo brano Dal titolo Reina De Los Angeles Dall'album La Vida Felipe Gomez E poi Ovviamente La mediazione Di Don Lucio Augusta reina De los cielos Y maestra De los ángeles A ti Que has recibido De Dios El poder Y la misión De aplastar La cabeza De Satanás Pedimos Humildemente Que envíes Legiones celestiales Para que bajo Tus órdenes Persigan a los demonios Los combatan Por doquier Repriman su audacia Y los arrojen Al abismo Quien como Dios Oh buena Y tierna madre Siempre serás Nuestro amor Y nuestra esperanza Oh divina madre Envía a los santos Ángeles Para que nos defiendan Y aleja de nosotros Al cruel enemigo Santos ángeles Y arcángeles Defiendanos Y guárdennos Así sea Estavo riflettendo tantissimo Su quelle parole E quella testimonianza De Don Marcello Don Lucio Felipe Gómez Dice Augusta regina del cielo E signora degli angeli A te che hai ricevuto Da Dio la potenza E la missione Di schiacciare La testa a Satana Ti chiediamo Ti chiediamo umilmente Di inviare Legioni celesti Affinché sotto I tuoi ordini Perseguitano I demoni Combattibili Ovunque Sì Per come la madre di Dio Che può veramente intercedere Come ci ha insegnato Nel Vangelo Alle nostre invocazioni Attraverso le nostre invocazioni Può intercedere Per la nostra salvezza Per la nostra salute E quindi È fondamentale Nel Ecco Nel Tante preghiere Che siamo Come diceva Don Marcello Noi Sacerdoti Possiamo Possiamo Fare Quando ci Ci presentano Dei casi particolari Invocazione a Maria Penso che sia Una preghiera Fondamentale I diavoli scappano Scappano Quando si invoca La madre E quindi Questo Felipe Gomez Ha realizzato proprio Questo canto Che è una preghiera A Maria Regina E signora Degli angeli Bene Don Lucio Siamo giunti al termine Caro Don Marcello Bisogna ricordare Che è scritto Decine e decine Di libri Sugli angeli E mi sta scrivendo Degli altri Ho sentito Qualche momento fa L'ultimo E sul loro Modo misterioso Di donarci La sicurezza E allora Qual è il miglior modo Di chiudere Con un messaggio Di sintesi Una preghiera Ovviamente Affidati a lui Dalla pietà celeste Invochiamo L'angelo custode Perché ci custodisca Ci illumini Ci regga E ci governi E' circa un quarto Di secolo Quasi 25 anni Che io Mi sto impegnando Accanto al mio Ministero di parroco Anche nella Diffusione Della devozione Agli angeli Negli ultimissimi anni 3-4 anni Ho notato Un boom Di interesse Verso San Michele E verso gli angeli E mi do questa spiegazione Che Una volta Non era così Stanno Nascendo Tanti gruppi In tutto il mondo In Italia In Francia In Polonia Dove io Spesso mi reco Per fare apostolato Ogni 29 Del mese Questi gruppi Si riuniscono Ecco Fanno Il rosario Alla Madonna Alla regina Degli angeli Fanno la corona angelica San Michele Espongono il quadro Del cuore sagratissimo Di Gesù Della Madonna E di San Michele E questi gruppi Stanno nascendo Un po' dovunque Una volta 3-4 anni fa Non era così Perché La spiegazione Che mi do è questa Il diavolo Si è preparato Purtroppo Un esercito Meraviglioso Tra virgolette Di maghi Cartomanti Pornografi Corruttori Massoni Imbroglioni Vari Omicidi Eccetera Eccetera La Madonna E San Michele Si stanno creando Invece L'oro esercito Di persone Semplici Di persone Piccole Che invocando La Madonna Invocando San Michele Invocando gli angeli Ecco Vogliono non solo Correggere se stessi Ma anche Migliorare la Chiesa E migliorare La società Allora Io darei questo messaggio Ecco Ogni 29 del mese Sarebbe bene O nelle case Meglio ancora Nelle parrocchie E commettere questi gruppi Una volta al mese Non ogni settimana Una volta al mese Il 29 Questi gruppi Che pregano Sono la Madonna E San Michele San Luigi Grignon de Montforte Ha detto che Negli ultimi tempi Il numero dei cattolici Si ridurrà molto Saremo una minoranza Nella minoranza Ma i veri cattolici Si riconosceranno Perché militeranno Sotto le bandiere Della Madonna E di San Michele Arcangelo Quindi mettete Il gruppo Di San Michele E della Madonna Ogni 29 del mese Altrimenti Se non si trovano persone Se il parroco Non è disponibile Ognuno il 29 Ecco Si faccia un bel rosario Si faccia Una bella preghiera A San Michele Con la corona angelica E i santi angeli di Dio Grazie Don Marcello Un incontro Molto profondo Ricco di motivazioni Di approfondimenti Io chiederei a Don Lucio Di chiudere con La sua classica Benedizione E le ultime parole Dopodiché Manderemo Il brano Tu purezza Di Felipe Gomez Per chiudere L'incontro Si Allora concludiamo L'incontro Con la benedizione Di Dio L'intercessione Di Madre Santissima Il Signore Sia con voi Con il tuo spirito Vi benedica Dio Onnipotente Padre Figlio E Spirito Santo Amen Tu pure salti Monte Mi vita Transferenza Virchina Che tu De tus manos Escoltan Las miei Bajo tu Manto Celestial Manto Manto Celestial Oye te chavo, escucha mi voz De tus manos, enséñame a Dios Oye te chavo, escucha mi voz